bipiede swissarmi versione economica leggermente riprodotto in leggero materiale termoplastico ma molto solido in quanto è riempito internamente da una scheletratura i poggiuoli sono in gomma l'adgancio è del tipo guiawear picantini di facile utilizzo allentando queste due viti si può montare su qualunque tipo di slitta picantini guiawear in maniera semplice e funzionale tirando i due dadi il montaggio viene seguito in pochi secondi pratico, semplice, economico e leggero per il trasporto si possono reclinare in avanti rendendolo di facile utilizzo per aprirlo si abbattono non è ulteriormente allungabile la lunghezza è quella che vedete al momento ovvero l'inverno vedete al momento